Avete realizzato il presepe e volete farlo vedere in tv? Iscrivetemi! Verremo fino a casa vostra con le nostre telecamere per riprenderlo e poi trasmetterlo nella trasmissione tradizione del presepe negli blei organizzato da canale 74 video 1. Possono partecipare le scuole, i singoli, famiglie, enti, associazioni, parrocchie. Ci saranno tre vincitori per ogni sezione a cui andranno attestati e ricchi premi ed un premio speciale web. Iscriversi è facile, basta chiamare 09321 97 24 50 dalle 9 alle 13 o inviando un email con i vostri dati a presepeibleo.com. Potete seguirci anche sulla pagina Facebook Tradizione del Presepe Ibleo. Ma affrettatevi, le iscrizioni si chiuderanno il 24 dicembre. Portiamo avanti la tradizione del presepe, un modo per trascorrere in serenità e armonia il Natale assieme alle persone più care. Allora, buon presepe a tutti! In collaborazione con concessionari a Peugeot e Citroen Giovanni Cappello e figli, Modica e Ragusa. La storica pasticceria di Lorenzo, Modica. Il ristorante e pizzeria Ullarii a Pozzallo. L'autocarrozzeria di Martino, Modica. E vi augurano buone feste Blanco Calcestruzzi, Modica. Ottica Gaetano Spoto, Modica. Giunta cucine elettrodomestici da incasso, Modica. Gioielleria Laboratorio Orafo, Arte Oro Gemme, Modica. Cucine d'autore Scolaro, Modica. Tipografia Cige, Cannizzaro Industrie Grafiche Editoriali, Modica. Lavimed. Il ristorante e pizzeria La Sirenetta, Modica. Pro Shop Candiano Yokasa, Modica. SOA, Sistemi Ortopedici Avanzati del Dottor Giuseppe Cicero, Modica.